In questa terza lezione introduttiva al calcolo integrale cosiddetto definito, ovvero il calcolo integrale che risolve il problema della determinazione di aree di figure curviline, definite in particolare da grafici di funzioni reali, vorrei adesso un po' percorrere una strada leggermente diversa da quella precedentemente affrontata per arrivare a illustrarvi un risultato che ci sarà particolarmente utile nell'affrontare i modelli matematici che risolvono problemi applicativi soprattutto per quanto ci riguarda noi problemi applicativi in ambito fisico. Per far questo cerchiamo un attimino di riassumere chi sono i protagonisti del nostro calcolo integrale. Allora penso insomma abbiate ormai chiaro se avete seguito le altre lezioni che il calcolo integrale così come lo studieremo noi tratta di funzioni a variabili reali definite in un determinato dominio e ci interessa di questo dominio un intervallo di estremo inferiore a di estremo superiore b all'interno del quale in questo intervallo chiediamo per non complicarci inizialmente troppo la vita sostanzialmente due cose a questa funzione di essere continua e di essere anche positiva ok? All'interno dell'intervallo. In realtà strada facendo quando diventeremo un po' più esperti cercheremo di andare a vedere come aggirare l'ostacolo in presenza di funzioni non continue all'interno dell'intervallo anche se sono non continue in modo particolare insomma e anche funzioni che non abbiano necessariamente un segno definito positivo all'interno dell'intervallo ma per ora le nostre funzioni di cui calcoliamo l'integrale definito le supponiamo continue e positive. Bene, vi dicevo ovvero di un percorso diverso da quello prettamente geometrico fatto prima. però partiamo da dove eravamo rimasti prima, no? Ok, cosa abbiamo trattato? Abbiamo trattato l'integrale come uno strumento per calcolare aree di trapezoidi avendo ben presente che cos'è un trapezoide. Tra le funzioni che soddisfano le nostre caratteristiche e che quindi riteniamo degne di essere affrontate col calcolo integrale vi sono sicuramente le funzioni costanti dove la costante è positiva ok, ovvero quelle funzioni quelle funzioni il cui grafico è banalmente una retta orizzontale ok, spero che di dire per tutti cose assolutamente chiare ok quindi chiaramente il calcolo integrale applicato al trapezoide chiamiamolo pure così definito dall'intervallo qualsiasi AB si riduce a determinare l'area di una figura ben nota vale a dire il rettangolo e questa figura qua per noi non ha segreti e l'area è il valore K per l'ampiezza dell'intervallo AB che determina la base del rettangolo e faccio osservare che questo K è il valore assunto dalla funzione AB scusate dalla funzione F di X ok il calcolo integrale ci permette sostanzialmente è vero di generalizzare questa situazione a qualsiasi funzione che sia continua e abbiamo detto immaginiamo positiva per non complicarci troppo la vita su AB quindi qualora la nostra funzione non fosse costante allora sì allora sì vero cioè se la nostra funzione ad esempio se avessimo una funzione che non è costante su AB ecco che la nostra area dovrebbe essere questa e allora il valore di quell'area lì dovremmo scriverlo integrare da A a B ad E di F di X in D X d'accordo nel caso ripeto della funzione costante l'integrale è è l'area del rettangolo e a quel punto lì chiaramente abbiamo e ricorriamo alla formula per calcolare il rettangolo ma cerchiamo adesso di vedere questa cosa qua da un punto di vista di grandezze allora dimentichiamoci per ora dimentichiamoci che ciò che io ho indicato con A sia l'area ok ma semplicemente vediamo la nostra grandezza A ottenuta come il risultato della moltiplicazione di una determinata funzione di una certa variabile X variabile X che appartiene all'intervallo A B e nel caso da cui siamo partiti la variabile X sia costante la funzione F di X sia costante al variare di X nell'intervallo AB ok quindi è il caso in cui la grandezza A la posso ottenere semplicemente moltiplicando K per B meno A proprio perché ripeto sto supponendo che la funzione F di X sia costante nell'intervallo AB ok cosa dire della grandezza A qualora la funzione F di X non sia costante nell'intervallo AB ovvero se la nostra grandezza A è sempre la grandezza che otteniamo moltiplicando il valore della funzione F di X sull'ampiezza dell'intervallo B meno A ma F di X non è costante nell'intervallo AB come come la domanda è come poter calcolare la grandezza quindi ho una grandezza che si determina moltiplicando il valore di una certa altra grandezza indicata dalla funzione F di X per un determinato intervallo all'interno del quale varia la variabile F di X qualora la variabile la funzione F di X sia costante sull'intervallo la grandezza A è chiaramente ottenuta moltiplicando il valore K per B meno A ma se la grandezza ma se la mia funzione F di X la mia grandezza che ho rincato con F di X al variare di X in B meno A non è più costante allora la grandezza A la domanda centrale è la grandezza A sempre definita attraverso il prodotto del valore della grandezza indicata con F di X per l'ampiezza dell'intervallo a B come faccio a calcolarla? dal momento che F di X continua a variare che valore dovrò prendere per F di X per poter definire questa grandezza? giusto per chiarire subito penso che magari a qualcuno di voi sarà venuto in mente un qualcosa di simile di averlo sarà venuto in mente che qualcosa di simile l'ha già visto la domanda del genere si è potuta già vedere ad esempio se io pesco dalla fisica e la mia grandezza la dico che è il lavoro e la grandezza F di X è una forza e l'intervallo a B è lo spostamento ok questo lavoro è il lavoro ovvero di una forza F parallela ad uno spostamento a B da A a B questo è lo spostamento S di un corpo va bene quando la forza F è costante ok se vi ricordate la definizione la definizione completa sarebbe per il coseno di alfa e io sto supponendo che la forza F sia parallela proprio per dimenticarmi vero del coseno di alfa potrei prendere la componente parallela di F se io spero di dire cose banali ormai arrivati a questo punto del vostro percorso quindi il lavoro di una forza è forza per spostamento ma attenzione questa è una definizione vera quando la forza F è costante nello spostamento ma se la nostra forza F dipende dalla posizione X nell'intervallo AB e ricordo l'intervallo AB è l'intervallo che determina S spostamento è sempre possibile calcolare il lavoro facendo F che in questo caso sarebbe dipendente dalla posizione per S e questa è la nostra stessa domanda che ci stiamo ponendo qua se la nostra grandezza adesso definita sempre quel prodotto tra la funzione e la nostra funzione non è più costante è sempre possibile arrivare ad A moltiplicando B meno A per un valore di F il problema è quale valore di X è quello giusto ok quale valore di X è quello giusto e quindi vi ricordate qual è il ragionamento che facevate il ragionamento che facevate è esattamente il ragionamento che ha portato alla copertura dei rettangoli da A a B lungo questo tratto la mia forza F di X varia devo fare in modo di ridurmi in una situazione in cui la grandezza F di X la posso considerare costante e l'unica situazione in cui la mia grandezza la posso immaginare costante quando è è quando considero un intervallo molto piccolo se l'intervallo è molto piccolo diminuisco la variazione della grandezza F di X e se l'intervallo è infinitesimale ecco che torna ancora fuori quel concetto lì e se l'intervallo è infinitesimale beh se l'intervallo è infinitesimale allora la mia variazione la costringo al valore al valore assunto in quella X posizione particolare e quindi e quindi il lavoro che faccio il lavoro che faccio per spostare in quella particolare pezzettino infinitesimale il mio corpo lo posso considerare il lavoro di una forza costante quel lavoro lì sarà il lavoro infinitesimale che chiamo sempre differenziale del lavoro ok differenziale del lavoro ed ecco che il lavoro totale sarà quindi la somma di tutti questi lavori differenziali da A a B e quindi e quindi eccola lì che cos'è il lavoro totale è la somma di tutti questi valori infinitesimali di questi lavori differenziali è l'integrale da A a B del prodotto forza per spostamento infinitesimale per spostamento differenziale e quindi tornando alla nostra notazione iniziale la mia grandezza A la potrò sempre calcolare nello stesso modo in cui ho ragionato adesso l'integrale da A a B la mia grandezza F di X diventa costante costante al valore assunto nella posizione X quando vado a considerare uno dei tanti intervalli infinitesimali del mio intervallo a B ok e questo mi permette di poter vedere la mia grandezza A nell'esempio fisico di prima mi permette di vedere il lavoro come la sommatoria di tanti contributi differenziali che è dovuti al prodotto tra la grandezza variabile F di X e il differenziale l'incremento infinitesimale della variabile X ok ecco questa è una visione importante che si se ci pensate adesso fate uno sforzo andate chiudete gli occhi e rivedete tutte le volte che in fisica nei vostri ultimi tre anni di fisica avete visto questo modo di ragionare sono tanti i momenti avete una grandezza che non risulta costante su di una superficie su di un intervallo una grandezza che varia riduco il mio intervallo la mia superficie in tanti pezzetti infinitesimali tali per cui la mia grandezza variabile su questi pezzetti non varia così tanto anzi al limite non varia proprio ma assume il valore che ha in quel punto eseguo questa moltiplicazione questa ipotetica moltiplicazione ok e poi faccio la somma continua a quel punto lì su tutti questi differenziali ok e ciò che ottengo è il valore della mia grandezza esatto della mia grandezza il valore esatto e la scrittura è il mio integrale definito è il mio integrale definito ok ci siamo arrivati non tirando in ballo le aree non tirando in ballo le aree ma ma se ci pensate siamo siamo in un ragionamento molto molto simile è giusto per chiudere il cerchio e ricordare appunto l'esempio appena fatto del lavoro e se vi ricordate cosa si diceva quando parlando di dinamica si introduceva il concetto di lavoro e si diceva ok e se la forza non è costante il lavoro è il lavoro è l'area sottesa dalla curva che descrive la forza e ok perché esattamente quell'integrale lì allora noi abbiamo che il lavoro che abbiamo appena scritto è l'integrale da ab della forza e differenziale quindi se se questa è la funzione che descrive la forza in funzione della posizione ok ecco che se ad esempio io sposto il corpo dalla posizione A alla posizione B questo è il lavoro ma questo ha un'interpretazione geometrica che abbiamo quella che abbiamo già visto qual'è l'interpretazione geometrica? l'area del trapezoide quindi il lavoro il lavoro il valore il modulo del lavoro ha un'interpretazione geometrica importante che è appunto quella che c'è scritto lì che rappresenta l'area del trapezoide definito dalla funzione che descrive la forza è chiaro che questa che questa interpretazione si mantiene corretta anche nel caso di forza costante quando la forza è costante allora il lavoro da A a B è forza costante per spostamento che lo spostamento in questo caso è B meno A e vabbè ma F per B meno A che cos'è F per B meno A è esattamente l'area del rettangolo e quindi l'interpretazione chiaramente geometrica rimane rimane confermata quindi il lavoro è sempre il modulo del lavoro è sempre il valore dell'area sottesa del trapezoide sotteso dalla funzione forza rispetto alla posizione nello spostamento in cui opera tale forza grazie a tutti